dall'evangelo come mi è stato rivelato di maria valtorta capitolo 118 inizio di vita in comune all'acqua speciosa e discorso di apertura 26 febbraio 1945 se si paragona questa bassa e rustica casetta alla casa di betania certo è un ovile come dice lazzaro ma se la si paragona alle case dei contadini di doras è un'abitazione ancora bella molto bassa e molto larga costruita solidamente ha una cucina ossia un caminone in una stanza tutta affumicata in cui è un tavolo dei sedili delle anfore e una rustica rastrelliera dove sono dei piatti e delle coppe una larga porta di legno grezzo le dà luce oltre che accesso poi sulla stessa parete dove si apre questa sono altre tre porte che danno accesso a tre cameroni lunghi e stretti dalle pareti scialvate a calce e il suolo di terreno battuto come la cucina in due di questi sono ora dei lettucci paiono dei piccoli dormitori i molti arpioni infissi nelle pareti testimoniano che lì venivano appesi attrezzi e forse anche prodotti agricoli ora servono da attaccapanni sorreggendo mantelli e bisacce il terzo camerone più largo corridoio che camerone perché è sproporzionata alla larghezza alla lunghezza è vuoto doveva servire anche al ricovero di animali perché ha una greppia e anelli al muro e presenta quelle buche nel suolo proprie di terreni percossi da zoccoli ferrati ora non c'è nulla fuori presso questo ultimo locale un largo portico rustico fatto di un tetto coperto di fascine e lavagne appoggiato su tronchi d'albero appena scorticati non è neppure portico è tettoia perché è aperto da tre lati due lunghi almeno 10 metri l'altro stretto di un 5 metri non più in estate una vite deve stendere i suoi rami da tronco a tronco nel lato di meridione ora è spoglia e mostra i suoi scheletrici rami come spoglio è un fico gigantesco che d'estate ombreggia la vasca al centro dell'aia certo messa per abbeverare le bestie è a fianco di un pozzo rudimentale ossia di un buco a livello di suolo appena un giro di pietre piatte e bianche lo segnala questa la casa che ospita gesù e i suoi nel luogo detto acqua speciosa campi anzi prati e vigne la circondano e a distanza di un circa 300 metri non prenda per articolo di fede le mie misurazioni si vede un'altra casa in mezzo ai campi più bella perché munita di terrazzo sul tetto che questa invece non ha oltre questa altra casa boschi di olivi e di altre piante parte spoglie parte fronzute celano la vista pietro con il fratello e con giovanni lavorano di gusto a scopare l'aia e i cameroni a riaggiustare i letti ad attingere l'acqua anzi pietro fa tutto un armeggio intorno al pozzo per aggiustare e rinforzare le funi e rendere più pratico e comodo il prendere acqua invece i due cugini di gesù lavorano di martello e di lima a serrature imposte e giacomo di zebedeo li aiuta segando e lavorando d'ascia come un arsenalotto nella cucina traffica tommaso e pare un cuoco provetto tanto sa dosare fuoco e fiamma e pulire svelto le verdure che il bel giuda si è degnato di portare dal paese vicino capisco che c'è un paese più o meno grosso perché giuda spiega che il pane lo fanno solo due volte per settimana e che perciò per quel giorno non c'è pane pietro sente e dice faremo delle focacce sulla fiamma là c'è la farina svelto levati la veste e impasta poi a cuocerle ci penso io sono capace e non posso che ridere vedendo che l'iscariota si umilia in sottoveste ad intridere la farina impolverandosi ben bene gesù non c'è e con lui manca simone bartolomeo matteo e filippo il più brutto è oggi risponde pietro ad un borbottio di giuda a domani andrà già meglio e a primavera andrà bene del tutto a primavera ma staremo qui sempre dice spaventato giuda perché non è una casa piovere non ci piove acqua da bere c'è il focolare non manca e che vuoi di più io ci sto benissimo anche perché non sento puzza di farisei e compagni pietro andiamo a ritirare le reti dice andrea e trascina via il fratello prima che incominci una diatriba fra lui e l'iscariota quell'uomo non mi può vedere esclama giuda no non lo puoi dire è così schietto con tutti ma è buono sei tu che sei sempre malcontento risponde tommaso che invece ha sempre un ottimo umore è che io mi credevo altra cosa mio cugino non ti vieta di andare alle altre cose dice pacato giacomo dal feo credo che tutti perché stolti credevamo altra cosa il seguirlo ma è perché siamo di dura cervice e di grande superbia egli non ha mai nascosto il pericolo e la fatica di seguirlo giuda borbotta fra i denti gli risponde l'altro giuda il taddeo che lavora intorno ad una mensola della cucina per tramutarla in piccolo armadio hai torto anche secondo le consuetudini hai torto ogni israelita deve lavorare e noi lavoriamo ti pesa tanto il lavoro io non lo sento perché da quando sono con lui ogni fatica perde il suo peso anche io non rimpiango niente e sono contento di essere proprio come in famiglia ora dice giacomo di zebedeo faremo molto qui osserva ironico giuda di cariot ma insomma cosa vuoi cosa pretendi una corte da satrapo non ti permetto di criticare ciò che fa mio cugino hai capito esplode il taddeo taci fratello gesù non vuole queste dispute parliamo il meno possibile e facciamo il più possibile sarà meglio per tutti d'altronde se lui non riesce a mutare i cuori puoi sperarlo tu con le tue parole dice giacomo dal feo il cuore che non muta è il mio vero chiede l'iscariota aggressivo ma giacomo non gli risponde anzi si mette un chiodo fra le labbra e inchioda intanto vigorosamente delle assi facendo un fragore tale che il borbottio di giuda si perde passa qualche tempo poi entrano contemporaneamente isacco con delle uova e una cesta di pagnotte fragranti e andrea con dei pesci in una nassa ecco dice isacco le manda il fattore dice se occorre niente a ordine così lo vedi che di fame non si muore dice tommaso all'iscariota e poi dice da dammi il pesce andrea che bello ma come si fa a prepararlo qui non so fare ci penso io dice andrea sono pescatore e si mette in un angolo a sventrare i suoi pesci ancora vivi sta venendo il maestro ha fatto un giro in paese e per le campagne vedrete che presto ci sarà chi viene ha già guarito un malato d'occhi e poi io avevo già percorso queste campagne e sapevano eh già io io tutto i pastori noi abbiamo lasciato io almeno una vita sicura e abbiamo fatto questo e quello ma non si è fatto nulla isacco guarda l'iscariota stupito ma filosoficamente non ribatte gli altri lo imitano ma bollono di dentro pace a voi tutti è gesù sulla soglia sorridente buono pare che il sole aumenti splendore per la sua venuta che bravi tutti al lavoro posso aiutarti cugino no riposa ho finito siamo carichi di cibarie tutti hanno voluto dare se tutti avessero i cuori degli umili dice gesù un poco mesto oh il mio maestro che dio ti benedica è pietro che entra con un fascio di legna sulle spalle e che saluta così sotto il suo peso il suo gesù anche te pietro ti benedica il signore avete molto lavorato e più lavoreremo nelle ore di libertà abbiamo una villa in campagna noi e ne dobbiamo fare un eden intanto ho aggiustato il pozzo tanto per vedere di notte dove è e per essere sicuri di non perdere le brocche nel calarle poi lo vedi che bravi i tuoi cugini tutte cose necessarie per chi deve vivere in un luogo a lungo e io pescatore non avrei saputo proprio bravi anche tommaso potrebbe mettersi nella cucina di erode anche giuda è bravo ha fatto delle splendide focacce e inutili c'è il pane risponde di malumore giuda pietro lo guarda e mi aspetto qualche risposta pepata ma pietro scuote il capo aggiusta la cenere e vi stende su le sue focacce fra poco è tutto pronto dice tommaso e ride parlerai oggi domanda giacomo di zebedeo sì fra sesta e nona i vostri compagni l'hanno detto mangiamo perciò solleciti ancora qualche tempo e poi giovanni pone il pane sul desco prepara i sedili porta le coppe le anfore e tommaso porta le verdure cotte e il pesce arrostito gesù è al centro offre e benedice distribuisce e tutti mangiano di gusto stanno ancora mangiando quando nell'aia si affacciano delle persone pietro si alza e va sulla porta che volete il rabbi non parla qui parla ma ora mangia perché è uomo lui pure sedetevi là sotto e attendete il gruppetto va sotto la rustica tettoia però viene il freddo e pioverà spesso io dico che sarebbe bene usare quella stalla vuota l'ho pulita a dovere la greppia sarà lo scanno non fare ironie stolte il rabbi è rabbi dice giuda ma che ironie se è nato in una stalla potrà parlare da una greppia pietro ha ragione ma ve ne prego vogliatevi bene gesù pare persino stanco nel dire queste parole terminano di mangiare e gesù esce subito per andare presso la piccola folla aspetta maestro gli grida dietro pietro tuo cugino ti ha fatto un sedile perché è umido il suolo là sotto non occorre tu sai parlo in piedi la gente vuole vedermi ed io la voglio vedere piuttosto fate sedili e lettucci forse verranno dei malati e serviranno sempre per gli altri tu pensi maestro buono dice giovanni e gli bacia la mano gesù va col suo sorriso lievemente mesto verso la piccola folla con lui vanno tutti i discepoli pietro che è proprio a fianco di gesù lo fa chinare gli mormora piano dietro al muro è quella donna velata l'ho vista è lì da stamane ci è venuta dietro da betania la caccio o la lascio lasciala l'ho detto ma se è spia come dice l'iscariota non lo è fidati di quanto ti dico lasciala e non dire nulla agli altri e rispetta il suo segreto ho taciuto perché pensavo fosse bene pace a voi che cercate la parola incomincia gesù e va in fondo alloggiato avendo alle spalle il muro della casa parla lentamente alla ventina di persone sedute per terra o addossate alle colonne nel tepore di un solicello novembrino l'uomo cade in un errore nel considerare la vita e la morte e nell'applicare questi due nomi chiama vita il tempo in cui partorito dalla madre inizia il respiro il nutrimento il moto il pensiero l'azione e chiama morte il momento in cui cessa di respirare mangiare muoversi pensare operare e diviene una spoglia fredda e insensibile pronta a rientrare in un seno quello di un sepolcro ma non è così io voglio farvi capire la vita indicarvi le opere apte alla vita vita non è esistenza esistenza non è vita esiste anche questa vigna che si lega a queste colonne ma non ha la vita di cui io parlo esiste anche quella pecora che bella legata a quell'albero lontano ma non ha la vita di cui io parlo la vita di cui io parlo non comincia con l'esistenza e non ha termine col finire della carne la vita di cui io parlo non è un seno materno a inizio quando dal pensiero di dio viene creata un'anima per abitare una carne a termine quando il peccato la uccide prima l'uomo non è che un seme che cresce seme di carne invece che di glutine o di midollo come lo è quello delle biade o quello delle frutta prima non è che un animale che si forma un embrione di animale non dissimile da quello che ora gonfia nel seno di quella pecora ma dal momento che in questo concepimento d'uomo si infonde questa parte incorporea e che pure è la più potente nella sua incorporeità che sublima ecco che allora l'embrione animale non solo esiste come cuore pulsante ma vive secondo il pensiero creatore e diviene l'uomo creato ad immagine e somiglianza di dio il figlio di dio il cittadino futuro dei cieli ma questo avviene se la vita dura l'uomo può esistere avendo immagine d'uomo ma già non essendo più uomo essendo cioè un sepolcro in cui potrefà la vita ecco perciò che io dico la vita non comincia con l'esistenza e non ha termine col finire della carne la vita ha inizio prima della nascita la vita poi non ha più termine perché l'anima non muore ossia non si annulla muore al suo destino che è quello celeste ma sopravvive nel suo castigo se così ha meritato a questo destino beato muore col morire alla grazia questa vita colpita da una cancrena che è la morte al suo destino dura nei secoli nella dannazione e nel tormento questa vita conservata invece tale raggiunge la perfezione del vivere facendosi eterna perfetta beata come il suo creatore abbiamo dei doveri verso la vita sì essa è un dono di dio ogni dono di dio va usato e conservato con cura perché è cosa santa quanto il donatore ma almeno reste voi il dono di un re no passa agli eredi e agli eredi degli eredi come gloria della famiglia e allora perché malmenare il dono di dio ma come lo si usa e conserva questo dono divino in che modo tenere in vita il paradisiaco fiore dell'anima per conservarlo ai cieli come ottenere di vivere al di sopra ed oltre l'esistenza israele ha chiare leggi in proposito e non ha che osservarle israele ha profeti e giusti che danno esempio e parola per praticare le leggi israele ha anche ora i suoi santi non può non dovrebbe errare quindi israele invece io vedo macchie nei cuori e spiriti morti pullulare da ogni dove onde vi dico fate penitenza aprite l'animo alla parola mettete in pratica la legge immutabile rinsanguate l'esausta vita che langu in voi se già l'avete morta venite alla vita vera a dio piangete sulle vostre colpe gridate pietà ma risorgete non siate dei morti viventi per non essere domani degli eterni penanti io non vi parlerò d'altro che del modo di giungere o di conservare la vita un altro vi ha detto fate penitenza mondatevi dal fuoco impuro delle lussurie dal fango delle colpe io vi dico poveri amici studiamo insieme la legge riudiamo in essa la voce paterna del dio vero e poi insieme preghiamo l'eterno dicendo la tua misericordia scenda sui nostri cuori ora è cupo inverno ma fra poco verrà primavera uno spirito morto è più triste di un bosco spogliato dal gelo ma se umiltà volontà penitenza e fede penetreranno in voi come bosco a primavera la vita tornerà in voi e voi fiorirete a dio per portare poi domani nel domani dei secoli e dei secoli perenne frutto di vita vera venite alla vita cessate di esistere solamente cominciate a vivere la morte allora non sarà fine ma principio sarà il principio di un giorno senza tramonto di una gioia senza stanchezza stanchezza in misura la morte sarà il trionfo di ciò che visse prima della carne e trionfo della carne che sarà chiamata alla risurrezione eterna a compartecipare a questa vita che io prometto nel nome del dio vero a tutti coloro che avranno voluto la vita per la loro anima calpestando il senso e le passioni per godere della libertà dei figli di dio andate ogni giorno a quest'ora io vi parlerò dell'eterna verità il signore sia con voi la gente sfolla piano con molti commenti gesù torna nella solitaria casetta e tutto a fine grazie söylenca chedega grazie